fate una per Genova una per Genova una per Genova allora com'è? chi è in castigo? come è sotto l'acqua? chiudete? tutte le interviste che fate abbiate un'intervista di riserva dobbiamo tutelarci fate carte d'identità doppie, triple, fotocopie dobbiamo stare molto attenti scriviti anche sotto l'acqua non c'è perso mi sono arrivati giusti dovrebbero essere giusti perché senti delle varianti questo è quello definitivo cosa legge? devi firmare la carta Firenze io non ho il proprio nome ce l'ho visto in documento non l'ho mai usato però c'è bisogno a metterlo quindi il doppio nome se è sul documento va messo lì se ce la fate a spingerti meno mi ringrazierai pieni dove lo sei tu so? perché è la Firenze 2005 ma la riflessione ma la riflessione ma la riflessione 45 giorni sono 46 45 hai diritto alla metà ma lo faranno se ci sono due ragazzi se non sappiamo la durata se non scioglere questo qui è una mica si è dimesso per un corriere dalla sede ha visto un articolo sul Corriere ha detto mi dimetto facciamo eh qui è andato dalla Polità non dal Parlamento non c'è stato lo scioglimento delle Camere è tutta una rara oltre oltre i 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 a febbraio, i mesi più di neve, più di freddo, c'è da febbraio, non è mai successo, ma è una questione di tutto, perché noi dobbiamo fare una campagna per le strade, siamo le unici, loro la fanno in televisione se non si è nascita, queste persone che poi leggo con quello che ho detto, mi massacrano, ma io non vorrei dire, l'inizio d'aprima, non è che voglio determinare, ci sono dei principi di risoluzione, se leggo e vedo che ho fatto delle dichiarazioni, Pinzini dice che è capo della Commissione, però il panico lo porta da nessuna parte, perché qui se stiamo fuori noi, c'è una squadra sola, si impastano tutti i gormonti, si impastano tutti, e appunto si impastano, poi scendono e fanno una partita da sola, è perfetto, la borsa ha preso a andare in rialzo, non c'è mai stata un'asta dei bot così positiva da quando non c'è più lui, allora io non faccio altro che riportare, ma io sono un riportista, i tu errati 20, è perfetto...